carissimi ragazzi amici di via cappellini buongiorno che sono la seconda volta proviamo a fare un po' di giallo caduto tra questi piedi dove stanno facendo via cappellini la metta devi capire gente che va gente che viene specialmente oggi che è giallo che possono entrare possono venire a fare colazione tranquillamente almeno 4 5 giorni di aria aria fresca e allora allora vogliamo parlare di quella specie di partite di ieri sera juventus batte sassuolo 3 a 1 allora io avrei un consiglio banca il via capellina avrei dare un consiglio al nostro fenomeno dirigente paratici sempre se si può rabbio in prestito al frosinone artur in prestito al cittadella cura da come si chiama bettangur in bre a lecce bella salendo che si c'è un solda bella le spiagge belle e ram 6 direttamente in inghilterra da dove venne out vado dicendo mai ha fatto un gol ram se scorramente ha fatto il gol ma ora ci vedete l'azione quella persona è stata capace tutta una porta al libro quando parlava da cura passa tra da sotto per te è stato anche fortunato il ragazzo catrass auto pallone dice ma l'importante per me un'altra prestazione da 2.0 ci vuol dire 2.0 2 all'ora 2 all'ora 2 all'ora 2 all'ora e sempre c'è la canzone come la netta ora rimanghi in mostruzzo ai sedi scopi e purché la calcata ora dai a sky gli spero oggi l'abbiamo visto ridere un po un po un po babbo di scali morte sono tre può andiamo col pagellone ma i ragazzi tra scuocchi alti dove interrompi marra e allo scesni cinque e mezzo per c'è cinque e mezzo cercare una parte da senza voto un pallone 4 quel che è andato a prenderti in porta è un posto cedroche un tiro un gol cinque e mezzo fra botta il ragazzo proprio c'è ragazzo gli do sufficienza ha fatto due tre belle azioni però in fase difensiva si è fatto un po ma buonuccio e demiral cinque tutto qua temma io però cinque molto imprecise se vedete che non non giocano mai insieme poi buonuccio stampic pur non picca spazzato tutti me e me speriamo che rientra che lini anche che lini ormai finalmente oggi un giocatore che mi è piaciuto veramente a parte il gol danilo ha fatto un bel gol ha fatto un assist a ronaldo terzo gol e ha fatto una buona partita finalmente un bel set a danilo chiesa si nella squadra come contro il milan però dopo dopo l'espulsione cacula l'ha dato la stampa si vedeva che era da sostituire però sconca taglia ogni decine abbiamo se non c'era in casa merito ogni decine se non c'era in casa merito è rimasto quasi tutta la partita in campo quindi sufficiente chiesa si betancur come ho detto e me che aveva cemmero a falcozzoli quattro e già sei che l'ha fatto fanuta imbo perché doveva questa vasta media come ha detto la formazione quattro artur quattro e mezzo sto mi sgrostando pitti titti faccio passato massimo di tre metri pitti titti nel altra mia capa fa nulla anche ne ecco poi non meno non parlare i tiri dei centrocambisti ma anche la canse niente ma chi ne fin quando stava squad a squad bo però c'è voto poter da un casquattino senza voto di bala 5 sacro e niente 3 però arretta in una chiave la posizione poco molto questo c'è prender 5 c'è castello ronaldo è una partita da quattro e mezzo mangia due gol dubbale gol fatte specialmente un assist di culo seschi da per assegnare il terzo gol ridò la sufficienza si però il ronaldo pure 2.0 ram 6 è da quattro e mezzo sconcaffato gol giustamente quello era il gol della vittoria si ma non si era come chi capisce nevo la scuola e mezzo rabbio quattro e mezzo perché non non si vede proprio non si vede capo gol da danilo pure sembra un errore di rabbiato che voleva passare il pallone a ronaldo il difensore quando c'è il pesce è quello da tirare fuori e faccio il gol va bene il cursore di bablò è nascendo culo seschi come trasda con color bianco se mangi il cursore di gol a portavacchè ci batta boone e invece scontini se riprende più però più di sei non da o perché va su se proprio vado da via cappellina va su se morate bernardeschi senza voto giustamente pirlo sufficio sufficio perché proprio questi è che vende quando un quadri proprio la gioco un quadri vabbè ragazzi però tre punti sono importanti speriamo bene molto come vedete fra covid infortuni dacci la cucchia ma non è scuola mila e già me fa in una settimana recuperate 5 punti o indietro che capisciammo oggi ma speriamo che qualcuno rientra da chi duco vabbè ragazzi come al sol vi auguro una buona giornata lo sapete che vuoi che vuoi oggi lunedì chiuderemo ci sono già fatte e stanno tristi il panetto nel carto dato la cosa ma i ragazzi però buon lavoro anche a voi voi sapete che vuoi che vuoi che vuoi come barba va bene ragazzi da via cappellina e tutto passo e chiudo e sempre porto a juve